scarica l'app scarica l'app scarica l'app perché? perché md è buono sempre vero Benny? certo Giorgio non lo metti mettilo in vendita non lo metti mettilo in vendita io faccio così e voi io faccio così e voi scarica l'app scarica l'app scarica l'app perché? perché md perché sembro Einstein ma sono Rossella e Europin la spesa intelligente no scarica l'app scarica l'app scarica l'app scarica l'app scarica l'app scarica l'app